L'arte mi ha fatto scoprire me stesso. È diventata un mezzo che mi ha aiutato a definirmi. Jeff ha un'estetica unica, diversa da quella di qualsiasi altro artista. Ha creato cose nuove, cose mai viste sotto forma d'arte. Quanta bellezza, quanta perfezione, quanto stupore, quanta meraviglia. Ha cambiato il modo in cui la gente vedeva al tempo e vede ancora oggi la scultura. Wow!